Ciao a tutti roblox giocatori qui a bello faccia e come state spero tutto bene allora allora voglio farvi vedere una cosa super divertente Vi presento il mio gabinetto mobile Gabinetto mobile Allora ragazzi che cosa dobbiamo fare oggi come avrete letto dal titolo dobbiamo raccogliere tutte queste cacchine E fare la scoregina più grande di tutto roblox Lasciate un gran mi piace perché per ogni mi piace bella faccia farà una scoregina e più proprio così oh mio dio Allora quindi raccogliamole tutte e poi dobbiamo andare qua e boom Oh mio dio ragazzi Ok ok abbiamo fatto un super record fantastico e non dimenticatevi di iscrivervi a tutti i nuovi attivando la campanellina delle notifiche Ok fantastico allora vediamo un pochettino che cosa possiamo fare Andiamo in shop Vediamo allora 300 diamanti possiamo prendere Più tre pet equipaggiati Per due Se vabbè per 15 minuti ce lo prendiamo Ok per due di cacchina Vai ce lo prendiamo il per due di cacchina Poi qualcos'altro di buono Ok ma sì anche questo per 15 minuti Prendiamo tutto prendiamo tutto prendiamo tutto ragazzi perché a me scappa Purtroppo oggi mi scappa eh anche la fortuna vai per due di fortuna Vai così forza per 15 minuti Mamma mia quanto si shop Quanto si shop Toilet No vabbè Un Robert Oh mio dio il gabinetto con i razzi Il gabinetto con i palloncini È in offerta No vabbè No 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 vabbè No vabbè raga No vabbè Dobbiamo prendere il gabinetto di velocità No vabbè Prendiamo questo Il gabinetto ragazzi Con i palloncini Sì l'abbiamo preso L'abbiamo preso Abbiamo preso il gabinetto con i palloncini E andiamo velocissimo Oh mio dio non ci posso credere Stiamo raccogliendo tutta la cacchina Allora vediamo qua le uova Quanto mi costano le uova? 50 milioni Ok 50 Qui 50 per un pet ragazzi Ci serve assolutamente 12 neberte per sbloccare il deserto Ok Mamma mia mamma mia Qua che possiamo fare? Incantare i pet che non abbiamo E qua? Ma ci sono un sacco di pulsanti Ok io direi di tirarla Sì così 700 7000 Mamma mia Il gabinetto con i palloncini Mi fa fare tanta cacchina Ok Oh mamma mia Ci sono anche i codici addirittura Mettiamo il primo Cosa si dà? Ok Come codice? Come non va il codice? Ma scusate ma mettete i codici e non vanno? Oh mio dio si Questo codice va Avete visto? Mi ha dato il gabinetto rosa Il gabinetto Dov'è? Questo qua Non ci credo Fantastico vai Però è meglio il nostro Vediamo Dov'è? Dammi il gabinetto Il gabinetto Equipaggia Sì Il gabinetto Non ci credo Questo qui è il gabinetto del coniglio Con i cuoricini No però mi dispiace A me piace molto più questo E l'ho scioppato In questo gioco ci sono un sacco di codici Vediamo Ok questo non va C'è assurdo Proviamo questo Oh Cosa mi ha dato? Un gabinetto strano Dov'è? Questo Vediamo Vediamolo un po' Però devi equipazzarmelo Ecco qua il gabinetto Ma di che cos'è? Ma che gabinetto è mai questo ragazzi? Un altro gabinetto strano Ok me ne hanno dati tantissimi Ma il mio è il migliore raga Il mio è il migliore Perché l'ho scioppato eh Ok prendiamo più cacchina possibile Guardate tutti che vanno a fare le scoregine eh Ok abbiamo 31 Ancora se ne dà per 2 Per altri 11 minuti Quindi io direi Ah Direi di approfittarne ragazzi Vediamo da 31 a 76 Buono Possiamo saprendere un pet Dai prendiamolo Vai Compriamo Ti prego un super pet Comune Ok Che cosa si dà il pet Vediamo 2.20k In che senso? Cioè Eccole lì Ma è super arrabbiato Anche lui vuol fare la cacca eh Ok ragazzi Vai vai Prendiamo un sacco di cacchina Mamma mia No dov'è il mio gabinetto? Io non voglio questo Voglio il mio super Equip Sì Il gabinetto volante con i palloncini Ma quanto è bello fare la cacca Su un gabinetto volante Io vorrei provare Ok mamma mia Mamma mia Proviamo ad incantare il pet Ok Un reberte Ma scusa per il reberte Reberte Vediamo 100k Se devo arrivare a 100k Per il reberte Ma non ci arriverò mai Ready Sì Oh mio dio Il gabinetto del cane meme Guardate Non ci credo Se si sblocca un sacco di cose Questo qua Ma è bellissimo Vediamo Non ci credo Guardate il gabinetto del cane Sì però il mio è il migliore Sì però il mio è il migliore Guardate il gabinetto della ragosta Ma mi prendete in giro Cioè sono arrivato Sono arrivato lontanissimo Ok ne abbiamo 100 Ne abbiamo 100 Ne abbiamo veramente tanti eh Io direi che possiamo provare a prendere un altro pet Dai un super pet Dai dai Raro Top Abbiamo anche la fortuna Per altri 8 minuti Dai un altro pet Un altro pet Leggendario per favore Ok comune Potevi darmi qualcosa di meglio Guardate sono tutti lì Allora che ci danno in più Che ci danno Non ho capito che ci danno Forse la cacca in più Oh cavolazzo Ok abbiamo 13k di cacca Eh mi sa che questa La faremo bella e grossa ragazzi Perché mi scappa Cavolazzo a mangiare tutta quella nutella Non ho parole Vai Boom Oh mio dio L'ho tirata lontanissimo Tanta roba Più 6 Più 6 Non ci credo Guardate questi pet Mamma mia Ne posso anche equipaggiare altri No vabbè dai Ma di cosa stiamo parlando Ok Prendiamone un altro Vai Ok comune Potevi darmi qualcosina di meglio Vediamo un altro Raro Top Un altro raro ragazzi E possiamo equipaggiarne anche un altro Ma ci rendiamo conto Però non abbiamo i soldi Ok abbiamo 20k Abbiamo 20k per fare la cacca Forza 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 Lanciamo da qua Bam Oh mio dio Ma sto andando in orbita Guardate 200k Sono quasi arrivato a 200k Ragazzi Ok Prendiamo l'ultimo pet Che ci servirà assolutamente Raro Top Un altro raro ragazzi Possiamo prendere un nuovo gabinetto Il pet robot No è un pet 150k No vabbè legend C'è ragazzi Il leggendario Allora questo Lo togliamo E mettiamo questo No vabbè 172k Ma vogliamo in orbita 3 2 1 La mega score gira super Guardate 700 800 800k Quasi guardate 2.22k Oh mio dio Dobbiamo sbloccare assolutamente I nuovi pet Perché ci danno un sacco Guardate Voli in orbita Ragazzi Voli in orbita Allora Reverte Quanto manca 100k Sì Vabbè Ciao proprio Devo arrivare a 100k Di cagnolini Ci metterò una vita Mamma mia Quante scoreggine Che sto tirando Ok 5k Proviamo a prendere Il nuovo pet Ok No Comune Me l'ha trovato Dai 30k La bomba Ok Tiro una bomba Attenzione Ok 30k Mamma mia Allora Togliamo questo Equipaggiamo lui No Il raro voglio Equibest Ok Fantastico Guardate che roba ragazzi Oh mio dio 200k Ok Proviamo a lanciarci da qua Che servono questi Vai Lanciamoci Boom Ok 200 300 400 500k 600 700 800 900 Quasi 900k Ma ci rendiamo conto Ho la pancia piena Guardate mi si sgonfia Eh ho mangiato troppo Ho mangiato troppo Che ci posso fare Quasi a 900k Siamo arrivati Possiamo anche sbloccare la scia Ma ho visto adesso Ho visto adesso Vabbè Va bene quella normale Ok proviamo a prendere un altro pet Dai Uno bello Uno bello Uncommon Ok va bene Va bene Va bene Pet Equibest 40k Mamma mia 239k Cioè guardate Appena mi metto qua Che pancia che ho Guardate Mi devo sgonfiare No ma i miei pet Si prendono tutta la Scoregina in faccia Poverini Ecco perché sono così arrabbiati Guardate Perché si prendono tutta la Puzza Quasi un milione Oh mio dio Ma siamo arrivati a un milione Fammi un po' vedere Ci voleva proprio Raga Guardate 6 7 8 9 Siamo quasi alla fine Non ci posso credere Dobbiamo continuare così Se prendo un altro pet Se la facciamo secondo me Se prendo un altro pet Se la facciamo ad arrivare a un milione Forse passiamo alla nuova mappa No 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 Vabbè Ok vediamo un pochettino 6k Ok Prendiamo un nuovo pet Ti prego Ti prego Ti prego Leggendario Leggendario Uncommon ancora Allora forse se la facciamo però eh Vediamo Si 270 267 Se la dovremmo fare con sto pancione Ok Dai 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 Super al milione Super al milione Super al milione Si Ce l'abbiamo fatta Top Tanta roba Tanta roba Ok ci possiamo prendere 3 pet Ti prego Leggendario 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 90k Top Vai pigliamone un altro Un altro Un altro Un altro Uncommon Dai che abbiamo ancora 13 secondi di fortuna Un altro leggendario Dai Dai Raro 50k Top Oh mio dio Vai Equipagiamo i migliori Guardate che roba 412 Un sacco di bombe con il robottino Oh mio dio Adesso vogliamo Vediamo Bum Sì Oh mamma mia Ragazzi guardate Ok Per uno Per due No vabbè Siamo arrivati a metà del secondo Ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto Resteremo qui nel nostro gabinetto volante Perché a me sapete com'è Scappa Quindi ci vediamo presto in un nuovo Fantastico Oh scudate Video Aiuto Ciao 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 Grazie a tutti.